Cosa è la diarrea virale? La diarrea virale è in realtà causata da diversi virus, e il nome tecnico è la gastroenterite virale. Questi virus entrano nello stomaco di una persona attraverso una varietà di metodi, che di solito comportano il contatto con una persona infetta. È l'infiammazione, che alla fine porta al vomito e alla diarrea. La maggior parte delle persone è in grado di riprendersi dalla diarrea virale abbastanza facilmente, ma la gravità della malattia varia a seconda del virus specifico coinvolto e del sistema immunitario della persona infetta. A volte la gente si riferisce alla diarrea virale come influenza dello stomaco, ma in realtà non è in alcun modo correlata al virus dell'influenza. Molti dei virus che causano la diarrea sono estremamente contagiosi e la trasmissione da una persona infetta è uno dei modi più comuni per catturarla. Di solito questi virus possono essere trasmessi attraverso le mani non lavate o condividendo il cibo con le persone. In alcune aree in cui l'acqua non è adeguatamente igienizzata, anche in questo modo è possibile rilevare la diarrea virale. Il modo migliore per evitare la trasmissione di diarrea virale ad altre persone è di lavarsi spesso le mani, soprattutto dopo aver usato il bagno. Alcuni dei modi migliori per evitare l'infezione sono di evitare il contatto con altre persone infette quando possibile e di stare lontano da qualsiasi oggetto potenzialmente contaminato. Di solito non è molto coinvolto nella diagnosi della diarrea virale. I medici possono generalmente individuare un virus come causa probabile sulla base dei soli sintomi. In alcuni rari casi, i medici possono aver bisogno di un campione di feci, ma di solito è riservato a situazioni molto gravi o casi che coinvolgono bambini piccoli. Il più grande pericolo in caso di diarrea virale è quando qualcuno è già disidratato per qualche motivo. Un buon esempio potrebbe essere qualcuno che lavora in un lavoro fisicamente intenso in cui potrebbe sudare molto. In situazioni come questa, un caso di diarrea ha il potenziale per essere pericoloso. La maggior parte dei medici consiglia di evitare attività faticose mentre soffre di diarrea virale, e l'assunzione di liquidi è spesso considerata consigliabile. Per la maggior parte delle persone, il trattamento non è realmente necessario per i casi di diarrea virale. A parte l'aumento dell'assunzione di liquidi, i medici di solito lasciano che la malattia faccia il suo corso, e per i virus che è spesso l'unica scelta dal momento che gli antibiotici non hanno alcun effetto. Ci sono alcuni farmaci che possono ridurre la nausea, e per alcune persone possono aiutare a trattare l'aspetto del vomito di un virus dello stomaco. Nei bambini più piccoli, c'è un rischio leggermente maggiore di complicazioni, soprattutto se hanno qualche altro problema che li rende inclini alla disidratazione.